Siamo regionali, intanto pensiamo a amministrare, a governare bene, a fare il bene dei cittadini a ogni livello, dal Comune fino a Roma. Intanto la coalizione di centrodestra è un punto fermo? La coalizione di centrodestra è sempre stato detto, io penso in ogni intervista che faccio, ribadisco sempre, che c'è una coalizione e un contratto di governo, che sono due cose diverse. La coalizione è centrodestra, ma lo vediamo con le regioni anche che abbiamo vinto nell'ultima tornata elettorale, vediamo come governiamo in Lombardia, in Veneto, in Liguria, per cui quello è l'alvio naturale in cui la Lega comunque sta e porta avanti i suoi progetti.